prepariamo insieme il tortino filante di patate e zucchine al forno iniziate col pelare le patate e spuntare le zucchine quindi affettate con l'aiuto di una mandolina o di un coltello le patate e le zucchine dello spessore di mezzo centimetro aggiungete un filo d'olio in teglia e un cucchiaio di pangrattato distribuitelo su tutta la superficie della teglia aggiungete sale e pepe realizzate il primo strato di patate aggiustate di sale e pepe aggiungete il parmigiano grattugiato e quindi il prosciutto cotto o il salame o la mortadella o quello che preferite ancora del parmigiano e la scamorso affumicata ancora del parmigiano sistemate adesso patate e zucchine a raggera su tutta la superficie della teglia alternate una patata e una zucchina se riuscite a recuperare patate e zucchine della stessa grandezza naturalmente il risultato sarà più bello da vedere altrimenti tagliate le patate a metà in modo che abbiano la stessa grandezza più o meno delle zucchine continuate col sistemare le patate e le zucchine fino a ricoprire tutta la superficie a questo punto preparate la panatura aggiungete in una ciotola il pangrattato il parmigiano grattugiato sale pepe e rosmarino e aglio tritati mescolate bene il tutto aggiungete 50 ml circa di acqua e ricoprite con la panatura un filo d'olio e ricoprite la teglia con un foglio di carta forno bagnato e strizzato e quindi con la carta stagnola fermare il tutto trasferite in forno a 180 gradi per circa mezz'ora trascorsa la prima mezz'ora controllate la cottura delle patate e verificate che siano morbide in questo caso erano cotte nel caso contrario ricoprite e proseguite la cottura per altri 10 minuti adesso andiamo in forno a gratinare a 180 gradi per 10 minuti circa ventilato ed ecco il nostro tortino servite e gustate grazie per aver seguito anche questa videoricetta alla prossima ciao